Un dispositivo ad ozono per sanificare a norma di legge gli ambienti abbattendo il pericolo di contagio da covid in una struttura che ospita persone fragili. Rappresentanti del Rotary Club di Campobasso insieme al governatore del distretto Rotary 2090 Basilio Ciucci lo hanno consegnato alla casa di riposo Don Carlo Pistilli. La donazione da parte del citato distretto che opera oltre che in Molise, nelle Marche, in Umbria e in Abruzzo è uno dei progetti avviati nel corso dell'emergenza epidemiologica che hanno previsto un impiego di risorse di circa 400 mila euro. Su questo fronte naturalmente hanno avuto un ruolo importante anche i Rotary Club del territorio. È un progetto che abbiamo fatto come distretto nell'anno precedente durante la piena pandemia e abbiamo avuto la possibilità grazie ai fondi della Rotary Foundation di acquistare questi cinque sanificatori che abbiamo distribuito nelle quattro regioni del nostro distretto. Due nelle Marche, uno in Umbria, uno in Abruzzo e uno qui in Molise che è la mia regione. Era un discorso che abbiamo affrontato con le ASL e abbiamo preferito scegliere come destinazione finale di questi sanificatori le residenti per anziani perché sono quelle che hanno avuto gravi problemi per il Covid e purtroppo sappiamo che qui nel Molise adesso c'è stato un altro caso molto grave e quindi l'ASL ci ha consigliato di donare questi sanificatori alle strutture per anziani e noi abbiamo di buon grado accettato. A breve ne dovremmo distribuire altre otto quindi anche un altro sanificatore che sarà diverso, sarà per ossido, lo doneremo qui sempre in Molise vedremo in quale struttura, ma sempre penso in strutture per anziani. Fondamentale per il finanziamento dei progetti del Rotary nei campi d'azione, salute, pace e ambiente, l'apporto finanziario della Fondazione Rotary. Abbiamo una grande mano che ci viene dalla Rotary Foundation che è il nostro salvadanaio e che ci permette con i fondi che ogni socio di tutto il mondo, siamo un milione e duecentomila soci nel mondo, riusciamo a fare queste azioni di sostegno a chi ne ha più bisogno. Di solito non diamo soldi ma diamo apparecchiature, diamo la nostra disponibilità come professionisti e doniamo apparecchiature a chi ne ha bisogno, più che dare soldi, soldi no. Grazie.